Mattia, una doppietta che mancava da tre anni, belle sensazioni? Sì, assolutamente, peccato per il pareggio, però penso che abbiamo fatto una grandissima gara contro una squadra fortissima, quindi dobbiamo essere soddisfatti. Avete messo in campo quella compattezza e quella voglia di riprendere ogni volta, ogni centimetro, il risultato che aveva chiesto il mister alla vigilia? Sì, sì, assolutamente sì. Il primo tempo siamo stati più compatti rispetto al secondo, però il secondo siamo stati più coraggiosi. Abbiamo usato di più e siamo riusciti a fare gol, poi loro hanno fatto il pareggio, però poi penso che alla fine meritavamo noi, meritavamo di vincere. Siete tanti in attacco, ma avete già segnato tutti e c'è coesione comunque con tutte le coppie del gol ogni volta. Adesso è la prima volta che avete giocato insieme tu e Eldor. Con chi ti trovi meglio? Ti trovi bene con tutti? Come funziona? Sì, sì, mi trovo bene con tutti, c'è un bel gruppo, quindi la concorrenza sana fa sempre bene. Adesso dobbiamo pensare al campionato, dobbiamo cercare di fare i più punti possibili e sicuramente fornire prestazioni come quelle di oggi. Pensi che giocando così le prossime due gare possono portare punti e prestazioni positive? Il nostro obiettivo, i punti sono fondamentali, soprattutto adesso, e quindi ce la metteremo tutta, partita dopo partita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.